Signori, benvenuti al dolce e babudoiu event, la sfilata più importante dell'anno. Oggi siamo in Cina a presentare quale collezione? In voltino primavera estate. Giovanotto, stiamo parlando dell'Asia, un bacino d'utenza enorme. Tu in quali altri mercati ti sei destreggiato? In quello di Sassari. Sfilavi? Portafogli. Allora, cerca di stare più abbottonato, ragazzo. Se vuoi lavorare qua devi convincere una persona molto importante. Arriva dall'Argentina, parla diverse lingue, ogni sua parola è praticamente un Vangelo. Parlo di? Papa Bergoglio? No, la nostra capostilista.